Senti un po', tu non ricordi il discorso che ho fatto quando sei arrivati a reparto? Che questo non è un reparto come gli altri, che la cella era una famiglia. Esatto, è una famiglia. Venite qui e buttate i ragazzini per strada. Tu butti tu madre in mezzo a una strada perché tanto lo sai che lo faranno per te. Avevo promesso che se mi mettevano contro la famiglia me ne sarei andata la cella. Le cose cambiano, è naturale. E allora sono cambiato male. Grazie.